Era stato uno degli acquisti più importanti del mercato di riparazione, insieme a Ceccarelli, ma purtroppo anche a causa di un infortunio al ginocchio non ha mai avuto modo di mostrare tutte le sue qualità. Stiamo parlando del centrocampista brasiliano Ronaldo Pompeo da Silva. Domenica pomeriggio contro il Novara sembra sia arrivato il suo momento, una chance importante per dimostrare a tutti e soprattutto al tecnico Menichini le sue qualità. Da quando il trainer di Ponsacco è arrivato sulla panchina Granata non ha mai avuto a disposizione il brasiliano che si era infortunato da poco durante la gestione torrente, finendo sotto ai ferri per l'operazione al ginocchio. Ora l'ex Empoli è recuperato al 100% ed è pronto a prendere in mano le chiavi della mediana collocandosi in cabina di regia. Per lui Menichini ha ridisegnato anche il centrocampo inserendo il rientrante Moro e Bovo ai lati del brasiliano, così da consentirgli di poter giocare con scioltezza lasciando agli altri due il ruolo di portatori d'acqua. Un 5-3-2 che porterà protezione alla difesa con l'inserimento del terzo centrale nello specifico Tuya, visto che Bagadour, seppur recuperato, potrà andare al massimo in panchina, consentendo anche al centrocampo di giocare maggiormente in fase di appoggio, costruendo così per il tandem offensivo formato da Koda e Donnarumma.